Adesso vi mostrerò come se è semplice e facile imparare a suonare uno degli strumenti più semplici della terra, il bioin. Intanto si accorda, così le accorda, si accorda l'archetto, tira a posto, la pece sull'archetto che si ha, se non vi suona se perché vi manca la pece. Da notare la comodità dello strumento, il miglior è che stai al suono solo, mi va bene perché non lo posso e quindi stai all'interno, è semplicissimo. Se mi viene su un muscolo grande così di drio a colo, è normale. Comiscio. Questa è la prima sinfonia di Beethoven, e faccio la seconda. Se senti che l'archetto fa questo rumore qua, è perché c'è un buio molto buono. Puoi fare anche il bending se vuoi. E questa è la prima lezione. Se vediamo alla prossima, mi raccomando non manchè e studiai intanto.